Anit, associazione nazionale per l'isolamento termico e acustico, festeggia sui 30 anni di attività affrontando i temi del risparmio energetico e del comfort acustico, in occasione del suo terzo congresso nazionale, svoltosi il 13 novembre 2014 presso lo Star Hotel Business Palace di Milano. Noi parliamo di risparmio energetico per quanto ci riguarda, per cui tutte quelle che sono gli interventi di Banca Sella nel settore finanziario, per cui come Banca Sella si pone a favore del risparmio energetico, in particolare in modo parleremo della creazione di prodotti bancari studiati ad hoc dalla nostra banca, proprio per mettere in condizione tutto il settore di poter intervenire ed effettuare poi alla fine l'intervento. Sono prodotti studiati e personalizzabili a seconda delle esigenze e siamo anche attenti a tutto quello che riguarda sempre il mercato finanziario e che riguarda tutto il comparto anche dell'agevolazione che Regioni o l'Europa ci mette a disposizione sempre in funzione di finanziare nel miglior modo possibile il settore.